ed eccoci qua siamo arrivati alla prima video guida di scuolasuono.it io ho un po gli occhi rossi sono un po costipato raffreddato un po stanco anche per la faticaccia degli ultimi giorni per l'apertura del sito però è con immenso piacere che ti do che apro diciamo il discorso video guide con una splendida video guida di una persona che è stata anche mio allievo e allievo di Gaetano nella scuola di recording del vecchio sito scuolasuono.com Mattia Zuliani è un personaggio polistrumentista simpaticissimo questo accento veneto lo caratterizza e ti lascio alla sua video guida sull'SM58 è molto interessante perché oltre a spiegare insomma delle cose sull'SM58 nella parte avanzata dedica molto tempo alla questione microfonatura come si posiziona il microfono come lo si utilizza in studio e quali sono anche gli utilizzi in studio di registrazione dell'SM58 al posto dei microfoni classici a condensatore ad esempio che si utilizzano sulle voci o in altre situazioni quindi sotto con il video e buona visione perdonami ancora una volta se questa prima video introduzione non è molto lucida però ecco ci tenevo a dare una firma in questo momento importante della della nascita di questo sito buona visione da Francesco Nano ciao un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it da Mattia Zuliani sono qui oggi nel mio studio di registrazione per parlarti dello Shure SM58 questo è un microfono è un microfono molto robusto è un microfono probabilmente il più diffuso in tutti i tipi di service live è un microfono che si utilizza prevalentemente nei live per la voce ma è un po meno diffuso in studio di registrazione quest'oggi voglio proprio parlarti invece delle possibilità veramente enormi e della soddisfazione nel registrare dei validissimi suoni che ti può dare proprio questo microfono ma vediamo in dettaglio di cosa è composto il microfono è composto da un corpo che è questo qui colore antracite da una capsula all'interno di questo schermo lo schermo è questa palla che si può aspettare che si può anche lavare ogni tanto soprattutto quando lo utilizzi in modo intenso live e che al suo interno ha un filtro che serve per evitare che i suoni esplosivi o i suoni tipo le F o le P vengano amplificati in modo eccessivo questo è valido per il live ovviamente ma è ancora più valido per l'utilizzo vocale in studio al suo interno poi si troverà la vera e propria capsula che è il trasduttore cioè quello che trasforma il segnale vocale il suono in un segnale di tipo elettrico che poi andrà attraverso il cavo ad amplificarsi attraverso le nostre apparecchiature mixer, preamplificatori e quant'altro qui dietro c'è l'attacco l'attacco è a tre poli si chiama Canon oppure XLR è un attacco di tipo bilanciato ciò vuol dire che posso utilizzare dei cavi molto lunghi senza che venga a degradarsi il segnale la qualità del segnale lo Shure SM58 è un microfono di tipo dinamico con una risposta polare di tipo cardioide ciò significa che la massima sensibilità ce l'avrà nella parte superiore e sarà meno sensibile via via scendendo lungo il body fino ad arrivare nella parte qui dove c'è l'attacco del cavo ti invito quindi a cliccare al link sottostante per la registrazione al sito scuolasuono.it per poter scoprire assieme a me tutti i trucchi per l'utilizzo in studio di questo fantastico microfono un saluto ancora a tutti gli amici di scuolasuono.it da Mattia Zuliani a presto